Parole come rughe, invecchiamento, pelle flaccida, segni del tempo, sono tutte parole con le quali soprattutto noi donne, ma anche sempre più uomini, non vorremmo mai avere a che fare. Sono parole che ci spaventano, ci spaventa il fatto di perdere quella freschezza e giovinezza sul volto, soprattutto perché siamo costantemente invasi da foto ritoccate, che scambiamo per reali e da ragazzine che pubblicizzano le creme anti-age quando fino a ieri usavano le creme anti-brufoli. Basta! Accetta che il tempo passa per tutti e che non possiamo fermarlo e vedrai che starei meglio. Questo non vuol dire che devi subire il tempo e trascurarti, così come ti prendi cura della tua casa, del tuo giardino, della tua macchina, facendo manutenzione affinché durino più a lungo e nelle condizioni migliori, la stessa cosa dovresti fare con il tuo viso. Ma non solo curandoti della pelle, perché questa cede, devi lavorare un po' più in profondità sul muscolo e allenarlo. Per quanto riguarda questo hai più possibilità, hai soluzioni più invasive, più rischiose e più costose, ma hai anche soluzioni più naturali, senza rischi e nettamente più economiche. Se non mi conosci, io sono Petra, sono un'istruttrice di yoga facciale e fondatrice di viso in forma. Da anni aiuto soprattutto le donne a far risplendere e ringiovanire i loro visi con questo rimedio naturale, affinché si vedano ancora più belle, più raggianti e più sicure di sé. Approfitta di questa promozione sul corso online di yoga facciale ed inizia ad allenare il viso anche tu. Clicca subito qui sotto per andare alla promozione e se hai piacere inviami le foto dei tuoi risultati. Ciao!